Sempre più paesi decidono di uscire in maniera radicale da tutte le restrizioni, sempre più paesi in Europa e nella stessa Europa che invece adesso prospetta un nuovo nemico, la creazione di un nemico totalmente inventato in Ucraina, altri stati si chiamano fuori pure da questo conflitto, da questa propaganda. Ne parliamo insieme su Senza Fissa Dimora. Sigla! Ciao a tutte le videoamatrici e a tutti i videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti nel nostro consueto appuntamento con le buone notizie. Una nuova puntata di una vecchia rubrica che oggi allarghiamo un pochettino di più a altre tipologie di buone notizie. State con me perché quello che ho da dirvi sicuramente vi interessa. Partiamo col dire che Spagna e Francia stanno alleggerendo, anche se la Francia in una maniera un po' paradossale, ma tutte e due alleggeriscono le misure. Probabilmente spinte da un'opinione pubblica che vede in tutta Europa l'uscita da questa crisi eterna. Infatti l'Inghilterra ha aperto le danze da pochi giorni con appunto la dichiarazione della fine di tutte le restrizioni, cosa che sembra invece molto più lontana sicuramente in Francia. Ma è notizia proprio di oggi che anche la Danimarca, attraverso la sua giovane primo ministro, dichiara la fine di tutte le restrizioni molto vicina. Quello che è stato deciso in Francia riguarda sicuramente il periodo di isolamento, che è una nota dolente per il governo da molti mesi. Infatti è noto, è ben risaputo, che i francesi non hanno mai visto di buon occhio il doversi auto-isolare. Infatti i casi di non rispetto di questa norma erano all'ordine di centinaia di migliaia. Allo stesso modo la creazione di pass falsi arriva a delle percentuali che vanno dal 20 al 40%, di quelli utilizzati sia per andare in ospedale sia per entrare nei ristoranti. Il non rispetto della quarantena è un argomento molto discusso, soprattutto dopodiché in alcune televisioni era stato fatto notare che un medico che risulti positivo può continuare a lavorare, nel caso si sia sintomatico, può continuare a fare ciò che stava facendo, cioè il medico, e quindi a essere in ospedale nonostante sia positivo, mentre una cassiera di un supermercato non lo può fare. Tutto ciò ha creato non poche perplessità e ha favorito sicuramente il non rispetto di queste assurde normative. Ed è notizia di pochi giorni fa che la quarantena è stata ridotta da 10 giorni a 6. La Spagna, come ho già detto in altri video, è uscita nella quasi sua totalità dall'utilizzo del pass. Infatti, nella grande maggioranza dei casi in cui veniva utilizzato aveva un tempo determinato. Questo tempo scadeva il 9 gennaio, il 10 gennaio, in alcuni 15 gennaio, per intenderci nel periodo di ferie natalizio. Da adesso, quindi da pochi giorni, l'uso del pass è veramente, veramente limitato a pochissime zone della Spagna. Si può dire che il 90% del territorio spagnolo non ha nessun pass, in nessuna attività, per nessun lavoro, in nessun ospedale, no nei ristoranti, no nei teatri, no nei musei, no negli stadi. E non esiste neanche nessun limite per quello che riguarda le presenze al suo interno. Cioè non c'è un 50%, un 70%, un 80% di possibilità di entrate in avvenimenti pubblici. È tutto aperto al 100%, discoteche comprese. E dopo le notizie appunto della Danimarca, dell'Inghilterra e della Spagna, ultimo arriva anche il Belgio. Belgio che ha gestito questa epidemia in una maniera inverosimile. Infatti a volte si è accostato ai paesi come la Francia per quello che riguarda l'utilizzo e la gestione della crisi nella maniera più liberticida possibile. Altre volte invece ha virato l'ultima volta che ha commesso un errore paradossale o una mossa falsa, politicamente parlando, è stato quando, poco tempo fa, ha chiuso tutte le attività non essenziali, unici in Europa. Scatenando però dalla sua parte la migrazione di quasi tutto il popolo belga, che come tutti sanno non è certo una nazione enorme, e perciò quasi tutta la cittadinanza prendeva un treno o un mezzo proprio o un mezzo pubblico per uscire dal Belgio, anche solo per andare al ristorante, anche solo per fare qualche piccolo acquisto, mettendo in una crisi sistemica tutta l'economia interna e favorendo esponenzialmente tutte le economie dei territori confinanti col Belgio. Dopo qualche giorno qualcuno deve averlo fatto notare a alti livelli e tutte le normative sono cadute nel dimenticatoio. Un'ultima notizia buona, non riguarda più finalmente direi questa crisi sanitaria, quest'epoca paradossale, quest'epoca di leggi liberticide, ma riguarda il nuovo nemico, la creazione del nuovo terrore. Infatti per rimpiazzare un'epidemia non c'è niente di meglio che una guerra, e la storia lo insegna, tanto che i giornali mettono già le mani avanti e spacciano come già fatto un conflitto che invece è vecchio di almeno tanti mesi. Ma per la propaganda mediatica cade a pennello. Ed è notizia proprio di oggi che il governo croato si dichiara totalmente estraneo a questa situazione, tanto da ritirare tutte le truppe in caso ci sia un escalation di eventi che porti verso a una qualsiasi forma di conflitto. Quindi la Croazia dice ufficialmente no. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che queste buone notizie vi siano interessate, vi invito tutti a mettere un pollicione in su, a condividere il video e abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto, e fare una piccola donazione per sostenere il mio progetto di deprogrammazione che riguarda un libro, dei corsi online e il canale YouTube. Potete farle attraverso i link che trovate in descrizione del video. Vi ringrazio e al prossimo appuntamento.